Tempo fino al 2028 per rimettere a posto conti che oggi certificano 200 milioni di massa debitoria. Il giudice fallimentare Ghetano Guglielmo dà il via libera alla omologazione del concordato preventivo di alto calore pur non nascondendo aspetti di criticità e elementi di incertezza sulla realizzazione del piano di rientro che da canto a suo la procura di Avellino, quando nel 2021 chiese il fallimento, aveva considerato impossibile a farsi. La ristrutturazione del debito, che era stata preventivamente approvata a larga maggioranza dai creditori, oltre alle spese di procedure di crediti prededucibili, prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello in percentuale nei confronti dei creditori chirografari a loro volta divisi in sette classi. Restano le perplessità che lo stesso giudice avanza anche sulla base dei risultati negativi e del mancato realizzo dei flussi previsti nel primo anno del piano industriale. Secondo l'amministratore unico Antonello Renzi, l'omologazione consentirà ad alto calore di riprendere in piena autonomia senza dover sottostare alla spada di Damocle e del fallimento la gestione della S.P.A.